La variante Delta non si arresta e il numero dei nuovi positivi continua ad aumentare in maniera esponenziale. Nelle ultime 24 ore il totale torna a superare addirittura quota 500, 505 per la precisione, a fronte di un leggero aumento di test effettuati, 7.773 tamponi molecolari e 4.669 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 4%, ma ciò che spaventa è quello sulle prime diagnosi, significativo per intuire la tendenza del contagio che balza all'8%. Il 65% dei nuovi positivi ha meno di 34 anni, con un exploit soprattutto tra i ragazzini minorenni, un passaggio inversamente proporzionale all'età, più aumentano gli anni e meno sono i contagiati, a dimostrazione del fatto che i vaccini funzionano. Il trend di crescita preoccupa, ma lo spettro di un possibile passaggio in zona gialla della Toscana, reale se non cambieranno le regole, dovrebbe essere scongiurato, dando più peso all'occupazione delle terapie intensive, sul cui fronte la situazione è comunque sotto controllo. I pazienti covid in rianimazione sono stabili nell'ultimo bollettino, che fa segnare l'occupazione di un letto in meno nei reparti ordinari. Siamo di fronte ormai a una diffusione di questa variante delta in maniera importante anche in Toscana, quindi la facilità della trasmissione è la caratteristica proprio di questa variante. Chi non si è vaccinato purtroppo cade in malattia. In linea generale è sotto gli occhi di tutti, la sintomatologia è prevalentemente simile influenzale, quindi si tratta di pochi sintomi, ma questo non deve in alcun modo far pensare o sottovalutare la situazione. Si registrano purtroppo due nuove vittime, due donne con un'età media di 95 anni decedute in provincia di Lucca e di Siena. La provincia che fa segnare l'incremento maggiore di nuovi positivi è quella di Firenze, ben 163 in più, seguita da quella di Lucca con 88 casi. Nelle altre i nuovi malati oscillano da poco più di 20 a oltre 40. L'inizio di quella che rischia di diventare la quarta ondata di contagi sta facendo segnare anche un numero quotidiano di nuovi casi superiore a quello delle guarigioni. Per questo stanno aumentando sia gli attualmente positivi, che oggi sono 2.917, che gli isolati in quarantena, 368 in più sono quelli malati asintomatici o con sintomi lievi e 530 in più sono quelli che hanno avuto contatti con un positivo.